Il gruppo teatrale Forest Cercare di avvicinare le ragazze e i ragazzi al teatro Il teatro come splendida occasione di crescita personale E splendida occasione di offrire alla comunità momenti di crescita Abbiamo negli anni prodotto spettacoli, costruito collaborazioni Fatto crescere giovani attori, ma soprattutto ci siamo conosciuti Apprezzati, aiutati e siamo diventati amici E da amici vogliamo vivere anche questo tempo così difficile Con mezzi di fortuna, su palcoscenici improvvisati Con testi scelti secondo le emozioni del momento Così vogliamo essere presenti in questi giorni e sentirci vivi Abbiamo creato una playlist dove raccogliere ed aggiornare Questi nostri messaggi di speranza Continueremo a rendere pubblici i nostri pensieri Le nostre paure La nostra voglia di non mollare Un antico adagio africano recita così Se vuoi arrivare primo, corri da solo Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme Abbiamo bisogno di stare insieme, uniti E ne siamo certi, arriveremo lontano Alla fine di questo tunnel buio Per rivedere la luce di una radiosa primavera